Comozione e ancora tante incredulità questa mattina ai funerali di Samuele Fuschi, morto giovedì scorso a 38 anni a causa di una voragine in Viale Regione Siciliana. La cerimonia è stata celebrata nel cuore di Ballarò a Palermo, in una chiesa gremita. Un intero quartiere ha infatti voluto dare l'ultimo saluto al 38enne, padre di quattro figli, tra cui una bimba di cinque mesi. Così come in tanti si erano recati alla Camera Ardente, allestita nei giorni scorsi in casa del padre della vittima, all'angolo tra via Albergeria e via del Giudice, per rendergli omaggio, con alcuni abitanti del quartiere che hanno persino avviato una raccolta fondi per sostenere e aiutare la famiglia di Fuschi. Viveva per i figli e la moglie, dice di chi lo conosce. Incredulo per quanto avvenuto quel maledetto giovedì pomeriggio in Viale Regione Siciliana, mentre il 38enne viaggiava a bordo del suo scooter. Morire per una buca non è possibile, dicono. Intanto proseguono le indagini sul tragico incidente. Secondo i tecnici della Polizia Municipale, la buca dimostrerebbe che i lavori di rifacimento dell'asfalto non sono stati fatti a regola d'arte, perché manca il sabbione e tutto quello che serve da fondo all'asfalto. Dal lavoraggine è evidente che sotto non c'è nulla, dicono. C'è da comprendere come sia stato possibile tutto questo. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulle cause del sinistro e sulle condizioni dell'asfalto. Si indaga per omicidio colposo. Il tratto di Viale Regione Siciliana è stato sequestrato e si dovrà verificare anche la responsabilità dell'amministrazione comunale. Ai periti il compito di accertare se il decesso di Fuschi sia di peso dalle condizioni della strada o da una serie di concause.